18 febbraio 1564 muore a roma 89 anni michelangelo buonarroti nato nel 1475 dal 1490 inizia a frequentare palazzo medici entrando in contatto con figure di spicco della cultura dell'epoca come poliziano marsiglio ficino e pico della mirandola a roma vive un rapporto burrascoso con papa giulio ii che gli commissiona il proprio monumento funebre mai terminato e la cappella sistina nel 1457 inizia i lavori per la ricostruzione della basilica di san pietro e ne progetta la cupola le opere di michelangelo artista geniale e irrequieto sono considerate fra le più grandi espresse dall'arte occidentale